Buongiorno, Buongiorno, buon lunedì 12 di novembre, ben trovati a mattino 6. Iniziamo la settimana con le nostre prime pagine dei giornali, poi nella seconda parte andremo ad aprire invece le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla nostra regione con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le prime delle quattro edizioni provinciali. A Pescara l'apertura è questa, muore a 45 anni durante l'escursione Caramani con la guida Paolo Battaglini colpito da un infarto mentre era in montagna. Nel taglio alto, richiamo dal nazionale, tensione Forza Italia Lega, Berlusconi rischio regime, Salvini sono solo sciocchezze. E poi la protesta di oggi al terminal bus di Tiburtina a Roma, l'Abruzzo oggi manifesta contro lo spostamento dei bus. A centropagina, come ogni lunedì, un'ampia pagina di sport, si parte dal Pescara. Il Pescara perde, ma a testa alta vittoria è primato per il Palermo, 0-3 al Barbera. E poi per la Serie A, Juve da record, il Milan va a K.O., crolla anche l'Inter, la Roma ne fa 4, questo è il sunto del massimo campionato di calcio. E poi per la Formula 1, Hamilton vince e la Mercedes è il campione mondiale, vincendo il quinto titolo costruttori. Andiamo avanti con le altre notizie nelle cronache. A Colle Corvino, sospetto verdoso, un 27enne trovato senza vita nell'auto, un ragazzo di Loreto Aprutino ieri sera è stato trovato morto nella sua automobile parcheggiata in Via del Lago a Colle Corvino. La morte potrebbe essere stata determinata da un'overdose. Nell'auto, infatti, i carabinieri hanno trovato un piccolo quantitativo di eroina. Ad avvisare i soccorsi e i carabinieri della presenza di un giovane che non dava segni di vita all'interno della sua auto è stato uno degli abitanti di Via del Lago. Stradina sterrata, chiusa, che da Via Santa Lucia porta al laghetto che dà il nome alla via. Una strada chiusa, lunga almeno 500 metri, utilizzata unicamente dai residenti, che sono circa 10 famiglie. Poi ancora a Pescara, controlli del Comune, tassa dei rifiuti, scovati 27 mila nuovi evasori. Lotta all'evasione che il Comune sta portando avanti da alcuni anni sull'Atari ha fatto emergere un'altra miriade di presunte irregolarità nei pagamenti dei contribuenti. Tra il 2014 e il 2015 non avrebbero pagato, avrebbero versato solo in parte la tassa sui rifiuti, 27.263 cittadini. Ora gli uffici hanno fatto partire i primi solleciti di pagamento. E continuiamo con la cerimonia a Pesco Sanzonesco in 3.000 per vedere il santo con l'aureola. E chiaramente parliamo del Beato Nunzio, il nuovo santo dei giovani. Quando il Vescovo Valentinetti e il Miracolato di Taranto Pasquale Bucci hanno deposto nella teca di cristallo e bronzo i due simboli in oro puro, la folla di fedeli si è sciolta in lacrime di gioia e commozione. Nel taglio basso troviamo come sempre il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Giallini e il fascino della discrezione. Si riflette sugli stereotipi degli italiani e su Giallini che viene preso come controaltare degli stereotipi che vogliono gli eccessi italiani in primo piano. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima di Chieti-Lanciano Vasto, in apertura Megalò, parcheggi gratis di mattina. Chieti, domani partono le soste a pagamento, stravolte le tariffe, polemica. Andiamo a vedere nelle cronache, ancora Chieti, farmacia, il comune a rischio di sesto, la crisi in cui è precipitata l'amministrazione comunale guidata da Di Primio mette a rischio il futuro della città. Senza la vendita della farmacia di Filippone a 1,3 milioni, il comune potrebbe sprofondare in dissesto finanziario, cioè tasse più alte per tutti, tagli ancora più drastici ai servizi e soprattutto quelli sociali, oltre a spese ridotte all'osso con il rinvio a data da destinarsi dei grandi cantieri per cambiare faccia a Chieti. Per domani alle 12 è stata convocata la conferenza dei capigruppo per decidere una nuova data dopo la bocciatura di mercoledì scorso, ma i ribelli della maggioranza restano contrari alla vendita della farmacia e Di Primio non ha certezza. Ci spostiamo ora a Vasto. Frana investe la Chiesa, protestano i fedeli a Vasto Marina, pronti a scendere in piazza ai fedeli per salvaguardare la parrocchia che sta franando dalla riviera arriva l'ennesimo grido d'allarme, la chiesa della Stella Mari senza serio pericolo. Il muro perimetrale sul lato della stazione è pericolante, dicono i residenti. A rischio crollo anche il muro su Corso Zara, strada che mostra ora un dosso e una bucca che diventa ogni giorno più grande. Ad Ortona la città rende onore ai soldati canadesi. Siamo riuniti per onorare i soldati che riposano qui a parlare. Così è stata l'ambasciatrice canadese in Italia, Alexandra Bughilich-Buliskis, ieri a Ortona al Remembrance Day, giornata in cui i paesi del Commonwealth ricordano la fine della prima guerra mondiale e delle altre guerre. A centro pagina qui lo sport con un focus in particolare su quello teatino, calcio, chieti e primo, basket, ok, l'Europa o vini. E poi la manita del Lanciano al Fossa Cesia, ma le inseguitrici non mollano. Il punteggio di 1 a 5 rispetta il pronostico che sul neutro dell'Aragona di Vasto voleva una sfida tra Davide e Golia. Ancora il centro, edizione di Teramo in apertura, un condono per la ricostruzione nel decreto Genova, emendamento per velocizzarla nei 23 comuni del sisma del 2016. Diamo nello spazio delle cronache, ASL di Teramo, appello della Nao, mancano 60 medici, i sindaci ci aiutino. I medici sono pochi, all'ASL di Teramo ne mancano almeno 60, ma la situazione di qui a poco potrebbe drasticamente peggiorare se dovesse essere attivata la cosiddetta quota 100 con un exploit di pensionamenti. Il sindacato dei medici a Nao è molto preoccupato e chiede un forte sostegno ai sindaci della provincia. La presenza dei sindaci su questo argomento è importante, esordisce Gabriella Marini, segretario aziendale della Nao, la quale invita il comitato ristretto dei sindaci, che il sindaco di Teramo, Gianguido d'Alberto, ha chiesto di ricostituire al più presto a interessarsi dell'argomento come accaduto all'Aquila. D'ora l'omicidio di Giulianova Santoliri, senior a casa dal PM, un secco no. La procura dunque ha detto no agli arresti domiciliari per Giuseppe Santoliri, che insieme al figlio Simone è in carcere con l'accusa di omicidio della ex moglie Renata Rapposelli, la pittrice di 64 anni di origine teatina. Secondo il PM Enrico Medori c'è ancora il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. L'ultima parola ora spetta al giudice. A Roseto sarà sede della finanza, casa confiscata ai Rom, via agli ultimi lavori nella palazzina del clan Rom Campanella, confiscata a seguito di un processo per usure che diventerà la sede della nuova caserma della Guardia di Finanza di Roseto. Entro l'anno dovrebbe finire il primo stralcio dei lavori di adeguamento sismico per un importo di 345 mila euro. Andiamo a vedere anche qui lo spazio dello sport. Il Teramo soffre a Guanta un pari prezioso, 2-2 con l'Albino Leffe. Poi per il basket di A2 Roseto Lottama cede al Monte Granaro nella sconfitta casalinga dell'ottava giornata della serie A2 Est. I biancazzurri cedono per 62-69 al Palamaggetti dopo aver condotto la partita fin dalle prime battute. Edizione Aquilana del Quotidiano Il Centro, così andiamo a completare anche la lettura del Quotidiano d'Abruzzo. Muore a 45 anni durante l'escursione e il titolo che abbiamo già visto sull'edizione di Pescara era di Pacentro Battaglini che è stato colto da un infarto. Poi nelle cronache all'Aquila sanatoria sbloccherà la ricostruzione ferma. Si chiama 39 Ter, abbiamo già visto l'articolo del decreto Genova per sbloccare un condonino in salsa abruzzese che permetterà di regolarizzare difformità e abusi edilizi negli immobili i cui proprietari chiederanno l'ammissione al contributo per la ricostruzione dopo il sisma 2016 in centro Italia. La misura riguarda 6 comuni aquilani dell'Alta Valle dell'Aterno, 16 del comprensorio Terramano e Farindola per il Pescarese. A Sulmona poi interventi sui ponti, fondi dimenticati. Sono scivolati nel dimenticatoio i 15 milioni di euro necessari per mettere in sicurezza 25 ponti e canaloni in città. L'Aggiunta Casini e gli uffici comunali erano stati velocissimi a eseguire dopo il crollo del ponte di Genova le verifiche sul Capograssi progettato anch'esso da Morandi. In meno di due settimane erano partiti i controlli e il report era stato inviato al Ministero. All'Avezzano spacciavano a casa due fratelli, vengono arrestati. Gli acquirenti di cocaina avevano come punto di riferimento una casa di via De Tiberis nella frazione di San Pelino. Lo scambio di droghe e di soldi avveniva attraverso un cancello, un via vai continuo che ha insospettito i residenti e non solo. Sabato scorso i carabinieri di Avezzano hanno filmato ripetuti incontri. Nella finestra di sport l'Aquila sbanca Celano e mantiene la vetta e poi Di Santo lancia l'Unione Rugby, salvezza obiettivo minimo. Cambiamo testata adesso e passiamo sull'inserto Abruzzo del messaggero. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Terminal Bus, maxiprotesta, consiglio comunale dell'Aquila a Roma, no allo spostamento da Tiburtina a Danagnina. Ci sarà anche una delegazione della regione in ballo il destino di migliaia di pendolari. E poi ancora il comune di Chieti nasce un listone anti di Primio con la frattura, scusate, sempre più profonda. Nella maggioranza del sindaco di Primio il consigliere Enrico Raimondi, l'altra Chieti, torna a chiedere le dimissioni e a invocare la costruzione di una grande coalizione civica allargata a tutti i partiti. Questo a pochi giorni dal prossimo consiglio comunale che potrebbe essere decisivo per le sorti dell'amministrazione. E poi ancora infarto, stronca Guidalpina durante la gita. Abbiamo già visto Paolo Battaglini, era con degli escursionisti, il malore lo ha colpito e lo ha acceso sul colpo a Caramanico. A centro pagina la Serie B finisce 3-0 il big match di ieri sera, prima sconfitta del Delfino in trasferte, il Pescara cede a Palermo, ora è secondo. Andiamo a vedere poi l'articolo di spalla, il soprano Lazic strappa applausi alle Canarie per quanto riguarda la lirica, grande successo della cantante pescarese nella traviata. Il taglio basso con Avezzano, assessore taglia gli alberi nel parco, ma dove lo avete mai visto un assessore così? Lo sponsor dell'assessore Crescenzo Presutti è il sindaco Gabriele De Angelis in persona, che ieri mattina di buon'ora diffonde le foto dell'assessore all'ambiente in questione, che oltre a stare in giunta al Comune di Avezzano è anche avvocato e si è dedicato al taglio degli alberi. Nel taglio alto, come sempre richiami per le altre notizie, in particolare per lo sport, Fuzz ha l'acqua e sapone in Champions per entrare nelle top 4. La Serie C il Teramo strappa un pareggio e deve ringraziare Barbuti Gol. E poi Giulianova resta Stallone, Chieti torna al comando. In casa Avezzano la bandiera Menna fa chiarezza, tutti uniti, nessun litigio. L'Aquila vince 3-0 e si mantiene in testa e Lanciano Superstar ne fa 5. Abbiamo già visto al Fossa Cesia. E così si chiude lo spazio dedicato alle prime pagine regionali. Adesso andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. La spinta di Salvini sulle grandi opere, ma Di Maio frena. Appendino riceverà i manifestanti di Torino, Protav, Berlusconi. Clima illiberale, lite con la Lega dunque. Anche nelle dichiarazioni si amplia il divario tra Lega e Forza Italia. E poi la politica e la piazza, l'antico vizio di far salire i piccoli sul palco, scrive Antonio Polito. A centropagina poi i cento anni dalla fine della Grande Guerra. I leader mondiali a Parigi, l'Europa debole tra Putin e Trump. Ancora altra notizia invece interna. Morbillo in corsia, sette contagiati da Bimba Novax. Bari, la ministra Grillo, dice subito un piano. Andiamo ancora avanti. La Repubblica, il titolo di apertura. Merkel contro i nazionalismi minacciano la pace in Europa, in questo discorso di Angela Merkel che è anche, possiamo dirlo, la sua eredità politica dopo un lungo governo, non solo della Germania, possiamo dirlo, anche dell'Europa. Salvini, rischio guerra, colpa dell'euroburocrazia. A Parigi l'asse fra Macron e la cancelliera. A Varsavia invece ultradestra in piazza per i cento anni dell'indipendenza c'è anche Forza Nuova. L'editoriale è di Ezio Mauro. Il nuovo civismo senza odio, scrive l'ex direttore di Repubblica. E poi a centropagina California fuga dall'inferno. 250 mila evacuati per gli incendi che continuano a devastare la California. Vedete queste immagini davvero impressionanti. Nel taglio basso manovra, spiraglio di tria, ma la Lega gele il ministro. Tasse locali più di 2 miliardi dopo la frenata del PIL. Sulla stampa c'è un'intervista in prima pagina al Premier Conte. Patto tra avversari in Libia per il vertice di Palermo. La conferenza sulla Libia che però si annuncia una conferenza un po' sottotono rispetto alle previsioni della vigilia. Ad esempio non dovrebbe esserci il generale Haftar. Poi però il quotidiano di Torino punta i fari sulla TAV. E sulla TAV saprò ascoltare Torino, dice ancora Conte. Il capo del governo parla dopo la manifestazione dei 30 mila. Studierò a fondo il dossier prima di decidere. Intervista con il Premier alla vigilia, come vi ho detto, della conferenza di Palermo. Serrai e Haftar vengono a patti. Poi c'è l'editoriale di Vladimiro Zagrebeschi. Piazza Castello, cittadini col senso del dovere, proprio sulla manifestazione Pro TAV. A centro pagina, viaggio a Buenos Aires alle origini del populismo. Così siamo finiti nel Baratro, nella capitale argentina. Un terzo dei cittadini vive nella miseria. Mancano lavoro e opere pubbliche. Insomma, è chiaro, si coglie subito il parallelismo che vuole essere portato avanti con quanto sta accadendo in Europa, anche in Italia, rispetto alle esperienze sudamericane, dove i populismi e le dittature l'hanno fatta da padrona nel Novecento. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il titolo di apertura, che è di tenore differente rispetto agli altri. Elkand e Benedetti e Berlusconi uniti per l'ammucchiata degli affari. Merce di carta, toni enfatici e fake news della stampa sulla TAV e la piazza di Torino. Questa è la posizione del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Poi andiamo a vedere nel taglio centrale la fotografia, storia di copertina. In Italia oggi sarebbero coinvolte almeno 4 milioni di persone. Nella setta ho perso tutto, vittime di guro feroci, occultismo e ricatti, persone rovinate che hanno rischiato la vita e un omicidio con ombre di satanismo. Andiamo a vedere adesso il sole 24 ore. Apertura tecnica per il quotidiano economico e finanziario italiano. Pace fiscale al via per i contribuenti. Arrivano i giorni delle scelte. I primi appelli domani e il 23 novembre. Tocca a chi ha siglato un'adesione o ha ricevuto altri atti di recupero. I dubbi tra gli emendamenti al decreto. Spunta l'ipotesi di allungare i termini. Conviene pagare subito o aspettare? Chiaramente le risposte le trovate nel sole 24 ore per questo focus sul condono. Andiamo avanti. In bidico gli aiuti alle famiglie. Le misure 2019. Reddito di cittadinanza, che è qui un approfondimento del sole, al 27,9% dei nuclei di Crotone e al 20,6% di Napoli. A rischio fondo mutui prima casa, bonus bebè, congedo dei papà e voucher babysitter. Dunque, secondo il sole, queste sarebbero le misure a compensazione del reddito di cittadinanza. C'è anche uno studio molto interessante rispetto alla divisione tra nord, centro e sud degli assegni che spetterebbero, almeno dalle prime notizie, a chi ha 9.600 euro circa di Isee. Andiamo sul messaggero. Il titolo di apertura riguarda Salvini. Grandi opere, avanti tutta. Il vicepremier, i lavori non si possono lasciare a metà, ma sulla TAV prima verifica e poi si decide. Oggi a Bruxelles il vertice sull'alta velocità, ultimatum dei francesi. Toninelli chiederà un rinvio di spalla. L'editoriale di Oscar Giannino, le priorità per Roma. Come garantire i trasporti all'altezza della capitale editoriale che si riferisce a questa notizia, cioè al referendum dell'ATAC. Ne è mancato il quorum, proteste ai seggi. Bassa l'affluenza alle urne, vota solo il 16,4% per il referendum voluto dai radicali. Il sì è al 74%, Raggi esulta dicendo che i cittadini vogliono che resti pubblica l'ATAC. E' pronto un ricorso dei radicali che contestano invece il quorum. Andiamo a centropagina, lo sport con la Samp finisce 4-1, la Lazio rallenta 1-1 col Sassuolo. Un faraone per rilanciare la Roma e chiaramente ci si riferisce a Del Sharawi. Andiamo sul tempo, ancora giornali romani. Ci meritiamo l'ATAC, il titolo di apertura sul referendum fiasco. Scosseggi deserti, vota solo il 16%, vince il sì alla privatizzazione ma non basta. Bus in fiamme, scioperi, stazioni a pezzi, bilanci in rosso, evidentemente ai romani. Sta bene così. Andiamo avanti con il giornale. Il titolo di apertura, la piazza cresce, la Lega scende dopo l'onda di Torino. Il carroccio finisce sotto il 30% nei sondaggi. Berlusconi, governo illiberale. Dunque, questo è il titolo di apertura del quotidiano della famiglia Berlusconi. C'è l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, ipocrisia e grilline. I giornalisti prostituti e le prostitute a 5 stelle. E il titolo sugli attacchi di Di Maio alla informazione. Andiamo avanti con Libero. Il titolo di apertura, ho perso per colpa del Milan. Berlusconi, rischiamo la dittatura. Silvio approfitta della marcia anti 5 stelle e delle tensioni nella maggioranza per spingere la Lega fuori dal governo. C'è un clima liberale, in questo modo si stradisce il centrodestra. Salvini, fai ridere così scimmiotti frustrati della sinistra. Questo è il sunto che fa Libero della polemica Berlusconi Salvini. A centropagina Di Pietro, credetemi, lo dico da XPM. Tanti magistrati se ne fottono e lavorano poco. Andiamo sulla verità che scommette sul rimpasto all'interno del governo. Il governo del cambiamento vuole cambiare tre ministri. Andiamo a vedere quali sono. Di Maio insoddisfatto, Di Toninelli, Della Grillo e Della Trenta. Il primo colleziona Graff, le altre due sono troppo poco visibili. Il 5 stelle ha bisogno di rappresentanti più incisivi per tenere testa allo strapotere di Salvini. A centropagina, la foto di Renzi. La riforma Renzi ha svenduto le banche popolari agli stranieri. A tre anni di distanza, il bilaccio del blitz compiuto dall'allora premier è disastroso. Continuiamo con il secolo d'Italia. Funerale a 5 stelle è il titolo del quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni sulla nuova marcia dei 40.000. Fratelli d'Italia è a favore della Tav, un'opera fondamentale per il futuro di Torino, del Piemonte e dell'intera nazione. Nel taglio basso il primo piano, subito giustizia per Desiree, preso il pusher romano. Berlusconi chiama Salvini, ritorna nel centro-destra e poi chiude le casa Pound e Forza Nuova, il sogno della Boldrini. Sul mattino di Napoli, titolo di apertura, Salvini sia alle grandi opere da 5 stelle. Nuovo stop alla Tav. Il leghista, l'Italia non va lasciata a metà, vertice con i francesi sull'alta velocità, manovra, mini tagli sul costo del lavoro, emendamento per salvare il bonus. Bebe l'analisi, la sinistra in sonno, vera forza dei 5 stelle, scrive Massimo Adinolfi. Andiamo a centro pagina, l'allarme dell'Enea, in tilt la macchina del clima, le nostre coste ad alto rischio, non è la prima volta che vengono lanciati questi allarmi. Poi il caso, si indaga sull'appalto per la pulizia, formiche nel letto, da giorni il reparto era pieno di insetti. Il video shock di Napoli e la denuncia di un ricoverato, medici e infermieri sapevano ma nessuno è intervenuto. Andiamo ad aprire adesso i quotidiani sportivi nazionali. Il titolo principale della Gazzetta, signora e padrona, la Juve passa 2-0 a San Siro e riporta a più 6 il Napoli, Mandzukic e CR7 dominano, Pipita vede rossa e sbaglia anche un rigore. Nel taglio alto, Superdea, Buio Inter, né gambe né testa, Icardi e Company schiantati dall'Atalanta, gli uomini degli spalletti sommessi da quattro reti. Andiamo a vedere le altre notizie. Ventura si dimette, il Chievolo congela, Vasquez Udinese, Juric Genoa in bilico, la decisione è arrivata dopo il 2-2 con il Bologna. Ancora finale della Libertadores, primo atto, Boca River show e gol 2-2, Premier, lezione Pep a Morigno. Ancora battuta 4-1 la Sampdoria, che faraone, si sblocca pure Schick di Francesco Risale con la sua Roma. Fischietti e polemiche, errori e varra, giornata nera, ora un summit arbitri. Tecnici a Torino, Roma e Bergamo e Verona, decisioni tube, l'AIA prepara un confronto. Andiamo sul Corriere dello Sport, il titolo abbastanza eloquente, padrona, la Juve batte il Milan 2-0 e torna a più 6 sul Napoli. Nel taglio alto, Gasp riporta l'Inter sulla terra, Spalletti crolla a Bergamo, 4-1 e scivola a 9 punti dalla vetta, poca la concentrazione della squadra nero-azzurra. E poi il taglio basso, a Roma in promozione vergogna, picchiato un arbitro, il derby di Manchester a Pep, battuto Mourinho 3-1, Sarri frena, andata a Libertadores, Bocca rimontato due volte dal River. Andiamo a vedere anche tutto sport, Giganti a San Siro con la foto di Mandzukic e Ronaldo. Nel taglio alto, Atalanta favolosa, ciao Inter, poker di gol e spettacolo, quarta vittoria di fila, Gasp che lezione a Spalletti. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ben ritrovati a mattino 6. Ripartiamo con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sul centro, in primo piano, il caso Tiburtina, lo spostamento del terminal bus appunto da Tiburtina ad Anagnina. A caso Tiburtina oggi si manifesta a Roma, Regione, Comuni, Parlamentari contro il trasferimento dei bus. L'Aquila convoca il Consiglio nella capitale. Questo per quanto riguarda l'argomento autobus e pendolari. Nel taglio basso invece la politica regionale di Stefano annuncia la sua candidatura, correrà con civiche per l'Abruzzo. Oggi l'ufficializzazione pagano di Forza Italia, che è il coordinatore regionale, gli chiede un passo indietro. E poi il flash mob organizzato dallo Sgala, il sindacato dei giornalisti abruzzesi, domani dalle 12 alle 13, giù le mani dall'informazione, proprio in relazione a quanto sta accadendo nello scontro tra giornalisti e membri del governo, soprattutto del Movimento 5 Stelle. Andiamo adesso su Pescara, nella prima pagina del centro che apre le notizie da Pescara. Guida muore a 45 anni durante l'escursione, tragedia in montagna Caramanico. Paolo Battaglini stava accompagnando un gruppo, l'infarto dopo la visita all'erremo di San Giovanni. Inutili i soccorsi in un percorso comunque di media difficoltà. Nel taglio basso, l'approfondimento, Pacentrani increduli. Paolo era uno di noi nel paese dove la guida lascia madre e sorella il dolore di sindaco e amici. Oggi alle 15 i funerali. Stessa notizia nell'apertura delle pagine di Pescara sul messaggero. Guida alpina stroncata da un infarto che non ha lasciato scampo a Paolo Battaglini, che stava rientrando a Caramanico con alcuni escursionisti sul monese di origine. Aveva 45 anni e abitava a Pacentrani, un montanaro esperto tra i fondatori dell'Esplora Abruzzo. Il precedente, quando lo sport uccide il caso del ciclista, solo due domeniche fa si era registrata un'altra tragedia, un quarantenne morto a seguito di un malore improvviso. Restiamo su questa pagina, completiamo nella lettura un cadavere nell'auto, probabile l'overdose, la scoperta di un passante alla periferia di Collecorvino e poi Pescara si fa il verde, in arrivo 127 nuovi alberi, c'è l'ok dell'aggiunta alla sostituzione delle piante. Nel taglio basso, io miracolato da Santo Nunzio, la testimonianza di Pasquale Bucci alla cerimonia di deposizione dell'Aureola dopo la canonizzazione a San Pietro. Restiamo sul centro, continuiamo sulle pagine di Pescara. Con la tassa rifiuti scoperti, 27 mila nuovi evasori sono partiti, solleciti dagli accertamenti spuntano altri contribuenti non in regola nei pagamenti del 2014 e 2015, mancano 13 milioni. Alla fine del mese si deve pagare l'ultima rata per chi ha scelto di rateizzare la tassa. Ancora politica pescarese di Matteo offre un patto ai consiglieri dissidenti, oggi un vertice, poi la scelta della Berardi per quanto riguarda il rimpasto di Giunta dopo le dimissioni di Giuliano Diodati. Vedremo che cosa accadrà all'interno del Consiglio Comunale pescarese. Notizia che abbiamo già visto in precedenza, Giovane muore in auto, sospetta l'overdose, visti ma un 27enne di Loretto Prutino, nella sua macchina trovato un po' di eroina, disposta all'autopsia, indagano i carabinieri per questa tragedia che si è consumata con le Corvino. Oggi il premio a Montesilvano per non dimenticare Nassiria, riconoscimenti speciali al generale Toschi e al presidente Pivetti. Ancora auto sui marciapiedi, cresce la protesta lungo la nazionale adriatica Francavilla e in altre zone del centro cittadino è impossibile camminare. Torniamo a Pesco Sanzonesco, la cerimonia solenne in 3.000 davanti al Santo con l'Aureola. Ieri la deposizione dei simboli d'oro nell'urna, Valentinetti è un esempio per i giovani in chiesa, folla di politici e autorità. Andiamo invece adesso nelle pagine di Chieti, la crisi, gli sviluppi dello scontro, rischio di sesto senza farmacia ai privati, l'amministrazione ha bisogno di fondi per fare cassa, altrimenti potrebbero arrivare aumenti delle tasse e tagli alle spese. Il sindaco cerca alleati, convocata per domani la conferenza di capigruppo, si decide la data del nuovo consiglio, ma i ribelli restano contrari alla vendita. Ancora, basta con le prebende in cambio di voti, l'assessorato offerto a Costantini Raimondi, solita vecchia politica di Iorio, il sindaco si dimetta. Situazione davvero complicata a Chieti. Andiamo a vedere la pagina di Chieti, anche sul messaggero. È l'ora di un listone anti di primio. Enrico Raimondi rilancia l'idea di una coalizione civica per promuovere una classe dirigente in netta discontinuità, un nuovo ostacolo sulla strada del sindaco dopo lo stop del consiglio alla vendita della farmacia comunale. il consigliere dell'altra Chieti punta il dito sulle fratture della maggioranza di centro-destra. Poi Lanciano, alcol e droga al volante, tanti giovani nella rete, 15 patenti ritirate, tante denunce nella notte durante il blitz della postrada alla festa del vino. Torniamo sul quotidiano il centro, completiamo le notizie da Chieti, i parcheggi, cambia il piano nel capoluogo, Megalò, via le strisce blu, mai gratis, tutte le mattine. Si parte domani con tariffe già stravolte, non si paga più tutti i giorni dalle 8 alle 20, pronti solo 391 posti su 859, gli altri disponibili a fine mese, sosta libera il lunedì. La polemica, bene, ora si faccia in tutta la città, dice Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio. Ancora vasto allarme di sesto alla Marina, la chiesa rischiofrana, parte la protesta dei fedeli pronti a scendere in piazza, e poi l'ambasciatrice ricorda i soldati canadesi, siamo nel taglio basso, a Ortona, cerimonia per i caduti, non dobbiamo dimenticare il sacrificio per la nostra, libertà. Restiamo sul quotidiano Il Centro, nelle pagine di Teramo, il PM dice noi domiciliari per Santoleri, per la procura restano pericolo di fuga e reiterazione del reato, al giudice l'ultima parola per la scarcerazione di Giuseppe. L'uomo qualche mese fa ha accusato il figlio Simone di essere stato lui ad uccidere la donna, e poi accusato di non pagare gli alimenti viene assolto, il fatto non sussiste per un papà Teramano portato in tribunale dalla ex moglie per l'assegno ai figli. Nella pagina successiva, sanità, reparti ospedalieri in affanno, mancano 60 medici, i sindaci intervengano su sollecitazione del sindacato, a Nao la carenza di personale potrà peggiorare con la quota 100 per i pensionamenti marini, un pericolo, le lungaggini per i concorsi e sui ritardi per il nuovo ospedale. E poi ancora, Parco del Mare, chiesti i soldi per i ritardi, Villa Rosa e il Comune avvia l'escussione della fideussione da 17 mila euro nei confronti dell'impresa. Nel taglio basso a Roseto, Casa Rom confiscata, ultimi lavori, lo stabile diventerà la sede della nuova caserma della Guardia di Finanza. Andiamo a vedere il messaggero, le pagine di Eteramo, in apertura, negozi, una strage senza fine, intere strade ormai spopolate, almeno 100 esercizi chiusi dal 2008, il ricambio soltanto in piccolissima parte, chi tenta di rilanciarsi nel commercio lo fa, affittando spazi di piccola metratura. Di spalla, morto dopo le dimissioni, i carabinieri arrivano nell'ospedale di Giulianova. Oggi l'autopsia sul corpo di Valentino Di Teodoro, 38 anni, Giuliese, trovato morto in casa della madre, autopsia, che dovrebbe chiarire ogni dubbio sulle cause del decesso. Nel taglio basso, via Raniero, i residenti adottano le buche, per cercare di sistemare gli asfalti, e poi i ladri rompono nella villa del direttore sportivo Valente, a Torricella, sicura. Le pagine dell'Aquila sul messaggero, fiume umano sulle mura civiche per la passeggiata identitaria. Un successo è la giornata organizzata dal Comune e dalle associazioni di tutela, i cittadini hanno ammirato il recupero e conosciuto la storia, grazie al Prof Ready. Finora spesi 8 milioni, ne dovranno arrivare altri 5 per completare il restauro. E poi, termina al bus ad Anagnina, istituzioni oggi, con una conferenza stampa, nella stazione Tiburtina. Nel taglio basso, droga alla Villa Comunale, un arresto, e poi Serie B, il Paganica strapazza la Capitolina per quanto riguarda il rugby. Nella pagina successiva, presutti, gli alberi, me li taglio da solo. L'assessore titolare della delega l'ecologia sbalordisce tutti e passa la domenica a potare al parco del Castello. L'impresa, che era stata annunciata dai giornali, messa a segno dall'avvocato, che sale sul cestello e lavora con caschetto e motosega. E poi da Sulmona, notizia di giudiziaria, l'inchiesta sulla morte di Guido Conti, va verso l'archiviazione. Andiamo sul quotidiano Il Centro, le pagine dell'Aquila, in primo piano il decreto Genova, dall'Alta Valle a Terno a Teramo, con dono per sbloccare la ricostruzione, emendamento sui 23 comuni abruzzesi del sisma 2016, così si potranno regolarizzare ampliamente i fatti senza permessi. Nel taglio basso, ponti a rischio, fondi nel dimenticatoio sul Mona, nessuna risposta dal Ministero, dopo il report inviato dal Comune, lavori per 15 milioni. L'indagine ad Avezzano, scoperta a casa dello spaccio, due gli arresti nel blitz a San Pelino, fratelli nei guai, denunciata anche una giovane, vendevano dosi di cocaina ai clienti, che arrivavano da tutta la Marsica. E poi, Onna celebra il decennio con Don Cesare, messa col cardinale Arcivescovo Petrocchi, poi il ricordo con i libri e foto degli anni dal sisma ad oggi. Nel taglio basso, Don Ilvio è il nuovo parroco di San Giovanni a Celano. E adesso apriamo le pagine dello sport, come ogni lunedì amplia la pagina dedicata proprio al calcio, con i campionati che si sono giocati nel weekend. Partiamo dalla Serie B, dallo scontro al vertice del Barbera, il Pescara cade ma non sfigura, scrive il centro. Punizione troppo severa per i biancazzurri, il Palermo sale in vetta alla classifica, la squadra di Pillon in partita fino al 41esimo della ripresa, poi il crollo, il Delfino non sfrutta abbastanza gli spazi e punge poco in attacco. Ora la sosta e poi la gara interna contro l'Ascoli, partita che è finita 3-0 per il Palermo. Andiamo a vedere anche come apre la pagina di sport il messaggero, eccolo qui, Pescara KO subisce il sorpasso, il Palermo si impone per 3-0 e si conferma la favorita, la promozione in A, risultato pesante, ma fino a dieci minuti dal termine il Delfino è stato in partita. Nel primo tempo la rete di Puskas, poi nel finale Moraschi e Moreo, Campagnaro ci prova senza fortuna. di spalla, questo è un punteggio bugiardo per le reazioni dei giocatori e dagli spogliatoi Pilon retto per 80 minuti, Leone dice mi tengo tutti. Noi adesso, prima di andare a continuare a vedere le reazioni nel dopogara sul centro, ci andiamo a vedere insieme il servizio della partita di Paolo Renzetti. Il Barbera si conferma un campo avaro di soddisfazioni per il Pescara che torna dalla Sicilia con la seconda sconfitta della stagione, la prima in trasferta che costa anche il primo posto al Delfino scavalcato proprio dai siciliani che sfruttano al meglio il doppio turno casalingo conquistando l'intera posta al cospetto degli abruzzesi puniti in maniera troppo severa nel punteggio ma autori di una prestazione nel complesso con pochi acuti nella sfida di alta quota in terra siciliana Pilon si affida quasi alla formazione tipo con l'unica variante di Ciofani per Del Grosso assenti scalera Capone, Cocco Canute, Fornasier il rosa nero di Stellone scendono in campo con un 4-4-2 piuttosto offensivo e che si trasforma spesso in un 4-3-3 e con Puskas e Falletti dall'inizio panchina per l'ex pescarese Mazzotta circa 10.000 agli spettatori del Barbera nel match diretto da Marinelli di Tivoli che fa osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio in memoria delle vittime siciliane del maltempo nelle prime battute di gara equilibrio con le due squadre che fanno tanto possesso pala fino al nono minuto quando c'è un lancio millimetrico di Brignoli per Puskas che supera Fiorillo in uscita con il destro dell'ex interista che viene intercettato quasi sulla linea da Campagnaro prende fiducia alla formazione di Stellone che inizia a premere con una certa decisione al sedicesimo Traikoski fa gridare a gol i supporters siciliani con la sfera che sfiora il palo di sinistra della porta di Vincenzo Fiorillo al ventesimo arriva la risposta ospite con Macine che chiama alla parata a terra Brignoli sono i padroni di casa a fare la gara con il Delfino che cerca di agire in contropiede al venticinquesimo Biancazzuri vicini al vantaggio con un missile di Campagnaro che costringe il portiere palermitano al salvataggio in angolo gara ora più equilibrata con Traikoski ancora insidioso al ventisettesimo con un tiro fuori di poco passano dieci minuti e Puskas riceve palla al limite entra in aria tutto solo davanti a Fiorillo non sbaglia per il gol dell'1-0 per il Palermo fanno festa i tifosi di casa con il Pescara che probabilmente paga a caro prezzo un errore di valutazione gara in salita con il Delfino che rischia poi di subire al quarantesimo il raddoppio con l'incornata sotto misura di Bellucci che mette però a lato sotto di un gol la formazione abruzzese cerca di reagire ma fino al quarantacinquesimo non accade più nulla nella ripresa si riprende senza sostituzioni l'avvio vede i siciliani molto aggressivi ed il Pescara piuttosto timoroso ma che va alla conclusione centrale al settimo con l'Edean Memuschai più insidioso all'undicesimo il tiro di Aiaeuro per i padroni di casa con la sfera che termina alta Pilon cambia al quindicesimo con Monachello che prende il posto di un Antonucci opaco e con Mancuso che si sposta sulla fascia gli ospiti premono ma la difesa isolana ha spesso la meglio al ventesimo arriva anche il turno di Del Sole l'eroe della gara con il Lecce e con Mancuso che poi al ventunesimo davanti a Brignoli manca clamorosamente l'aggancio del pallone con Fiorillo che va poi a salvare dalla parte opposta al ventunesimo in maniera miracolosa su una conclusione ravvicinatissima di Traikoschi e due squadre si allungano con Del Sole che ci prova al ventiquattresimo prima del limite mandando il pallone però a lato spingono i biancazzurri con Stellone che si copre un po' con Muraschi in campo per Falletti i ragazzi del presidente Sebastiani attaccano e rischiano anche in qualche occasione provando poi nell'ultimo quarto d'ora a pareggiare la gara anche con l'ingresso in campo di Crecco per Ciofani la spinta dei biancazzurri prosegue con il Palermo che poi sostituisce Puskas con l'ex Terramano Moreo al trentottesimo si vede Monachello con un colpo di testa centrale che non crea problemi a Brignoli poi il finale Amaro con il raddoppio al quarantunesimo di Muraschi ed il tris di Moreo al quarantatresimo per un tre a zero oltremodo severo per i biancazzurri che perdono così gara e primato in classifica e dunque notta amara quella del Barbera come scrive anche il centro Pescara scavalcato in vetta Pillon risultato bugiardo una grande squadra il tecnico dice abbiamo fatto una buona partita nel finale ci siamo esposti siamo stati puniti al Barbera stadio tabù la prima sconfitta fuori casa bisogna anche riconoscere i meriti del Palermo che è molto forte nel taglio basso Memushai non usciamo ridimensionati il centrocampista albanese non ci sta meritavamo di più il DS Leone orgoglioso dei ragazzi allora andiamo a sentire le impressioni nel dopogara è mancata la stoccata finale sì diciamo la conclusione perché le situazioni di gol ci sono state anche nel primo tempo le occasioni le abbiamo avute solo che non le abbiamo sfruttate è mancato l'ultimo passaggio la conclusione importa la stoccata vincente come hanno fatto loro l'unico rammarico è il primo gol che secondo me potevamo evitarlo devo rivederlo bene perché non mi è piaciuto come l'abbiamo preso però la squadra ha corso fino all'ultimo ha lottato fino all'ultimo secondo non ci siamo riusciti a rimanere la partita ma nel secondo tempo li abbiamo messi nella loro metà campo fino al quarantesimo fino al momento del 2-1 del 2-0 abbiamo messi lì ne abbiamo cercato di tutti i modi di frago non ci siamo riusciti una buona prova nel secondo tempo lei ha provato anche a cambiare qualcosa così come era accaduto con il Lecce e anche a Cosenza la squadra ci ha provato fino alla fine poi questi due gol nel finale ovviamente vi hanno messo in ginocchio sì è chiaro sul 2-0 come al 42esimo è chiaro che la squadra per tutto quello che ha prodotto poi ha visto finificare tutto il lavoro fatto perciò chiaramente il 3-0 è bugiardo perché per quello che ci ha visto in campo non è giusto è stata una partita dove il Pescara sapevamo che poteva metterci in difficoltà sul palleggio perché erano giocatori di grande qualità una squadra che è davanti a attaccanti forti e che fino a oggi non aveva mai perso fuori casa quindi abbiamo cercato di contrastare il più possibile senza snaturarsi più di tanto e abbiamo rischiato poco siamo stati bravi nell'occasione del primo gol e siamo stati altrettanto bravi nel secondo tempo a chiudersi loro hanno provato ad attaccare di conseguenza attaccando in tanti uomini i rischi poi di subire ripartenze come abbiamo fatto nell'occasione del secondo e del terzo gol quindi è stata una partita dove il Pescara ha tenuto il pallino del gioco il Pescara a livello di palleggio è stato superiore a noi noi siamo stati alla fine superiori non solo nel risultato ma a livello di conclusioni faccio comunque complimenti al Pescara che è venuta qua a giocarsi la partita e a non snaturarsi e hanno fatto comunque un'ottima gara Stellone questa sera si sono affrontate al Barbera le prime due della classifica il Palermo in testa secondo pronostico il Pescara un po' meno secondo lei lei che tra l'altro a Pescara è di casa questa squadra potrà recitare un ruolo di primo piano parlo del Pescara ovviamente fino al termine della stagione ma io penso che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo perché hanno giocatori di qualità un ottimo allenatore che ha già ottenuto grandi risultati nella sua carriera ha vinto campionati la società è una società seria sana e penso che il Pescara si giochi fino alla fine insomma la possibilità di arrivare in Serie A chiudiamo con le pagelle dei Biancazzurri sempre sul quotidiano il centro Macin è il migliore Antonucci in ombra da rivedere il tridente offensivo Campagnaro regge molte le sufficienze come vedete qualche piccola insufficienza per Mancuse e Antonucci ad esempio in avanti spicca appunto il 6 e mezzo di Macin e poi le altre gare Brescia-Verona finita 4 a 2 e Cittadella-Venezia finita 3 a 2 lasciamo adesso la Serie B passiamo alla Serie C con l'undicesima giornata del Girone B e il Teramo che in difficoltà strappa un punto d'oro 2 a 2 con l'Albino al F i Biancorossi segnano subito poi si chiudono preso l'1 a 1 vanno in barca e rischiano la disfatta li salva Barbuti la squadra continua a non avere un'identità di gioco anche per la necessità di far giocare i 2-99 molto discutibile il rigore che dà il pari agli ospiti ma le reti del diavolo nascono da errori della difesa per quanto riguarda invece le altre partite la Fermana cade a Rimini la Ternana è sempre più lanciata verso la Vetta e Renate abbandona l'ultimo posto e dunque vedete anche qui le partite che si sono giocate nel girone B prima di andare a vedere il servizio della partita andiamo insieme a vedere il titolo del messaggero sul Teramo Teramo Barbuti evita il K.O finisce 2-2 con la Binole F ma è polemica per il rigore del provvisorio pari degli ospiti commenti con l'allenatore Maurizio una partita disputata tra alti e bassi ma quel rigore non l'ha visto neanche l'arbitro il mister qualche mese fa una gara così l'avremmo persa allora andiamo a vedere che gara è stata nel servizio di Jacopo Forcella un pareggio che assomiglia tanto ad un pericolo scampato quello che il Teramo trova al cospetto di un Albino Leffe a cui Albini tirerà metaforicamente le orecchie a fine gara per non aver capitalizzato al meglio il vantaggio conseguito in una ripresa in cui i bergamaschi hanno giocato decisamente meglio e dire che la partita dopo nemmeno 4 minuti si era messa su binari migliori per il Teramo con il doppio liscio mondonico Gavazzi che spiana la strada al secondo centro in campionato di Lorenzo De Grazia vero e proprio uomo gol di un Teramo che sfiora il raddoppio già al decimo minuto sull'asse Piccioni-Ventola con il diagonale dell'esterno disinnescato da Coser la novità negli ospiti è Sibilli davanti con Coco ma soprattutto il recupero di Giorgione che non arriva a minuto 17 sull'invito del compagno di squadra ritmi non elevati nel primo tempo il diavolo gestisce ma nell'intervallo Albini pesca la carta a Gelli cambia modulo passando ad un 3-4-1-2 che mette in difficoltà i padroni di casa traditi al 53esimo forse da un colpo di mano di Piacentini molto dubbio proprio su Gelli che per l'arbitro è meritevole della massima punizione Coco dal dischetto spiazza Pacini e cambia l'inerzia di un match che gira totalmente a favore dei Bergamaschi nemmeno 7 minuti la difesa bianco-rossa è pigra su un'azione nemmeno troppo pericolosa dell'Albino Leffe Coco recupera un pallone che sembrava perso il resto lo fa Sibilli con la conclusione vincente che permette il sorpasso dell'11 d'Albini Maurizzi nel frattempo aveva inserito Barbuti per Piccioni e la punta al 64esimo gira verso Coser un traversone di ventola ma è Gelli l'uomo in più dell'Albino Leffe al 66esimo ci prova due volte nel corso di un'iniziativa che il Teramo non riesce mai a far concludere Pacini che sostituiva Lewandowski si salva in bello stile mentre la girata volante di Agnello passa vicino al palo sinistro dell'estremo difensore di casa Maurizzi pesca allora anche Zecca al 79esimo trova il gol del 2-2 il lancio di Broietti è calamitato da Fior Daliso che sfrutta il liscio di Gonzi palla proprio per Zecca che allunga quel tanto che basta per l'intervento sotto misura di Barbuti secondo centro anche per l'attaccante e parità ristabilita con 11 minuti ancora per provare a vincerla ma è Nicchetti entrato al posto di Sibilli a sfiorare il colpaccio con la sventola che scalda i guanti di Pacini finisce 2-2 per quello che si è visto tutto sommato al Teramo può stare bene così un punto che fa dimenticare fermo e apre la settimana che porta ad un altro scontro diretto contro la Virtus Verona e dunque le parole di Maurizio anche sul centro bisogna crescere ancora troppi alti e bassi il tecnico ci vorrebbe maggiore capacità di palleggio per gestire le partite il debuttante Pacini ho fatto bene teniamoci stretto il 2-2 è un punto che ci aiuta curiosità le 13 reti subite finora in campionato sono arrivate tutte nei secondi tempi la Serie D che ha giocato sabato e mercoledì sarà di nuovo in campo va stese la strada per la risalita è ancora molto lunga la sconfitta nel derby mette di nuovo a nudo i problemi dei biancorossi ora c'è il campo basso dopo lo stop subito contro il Pineto per il notaresco Monti battiamo il Pineto per tornare a correre Marsicano in difficoltà Vezzano con il Forlì la gara della svolta ancora Francavilla sfida la capolista Rachini all'esame matelica De Costanzo recupera e poi dopo tre vittorie di fila il Pineto al caccio del poker Amaolo dice siamo cresciuti nel taglio basso Giulianova a picco patron Bartolini imbufalito dopo il K.O. con la Savignanese il presidente lascia lo stadio senza incontrare tecnico e squadra andiamo a vedere la Serie D anche sul sul messaggero nel taglio alto Marianeschi Tomassini è fortunato le leve del Pineto terzo successo consecutivo obiettivo 60 punti e poi di spalla notaresco primo pareggio mister Cudini farà il tour nove ancora l'Avezzano spogliatoio compatto per risalire capitano menna bandiera dei Marsicani analizza l'ultimo posto tante critiche su di noi però siamo consapevoli del nostro valore stiamo con mister Gianpaolo il tecnico sta con noi lo ringraziamo ogni giorno ancora Montani parla chiaro va stese per la salvezza l'obiettivo ora è quello di cominciare a fare i punti che servono a mettersi al sicuro ci si consola con l'ottimo rendimento del settore giovanile che fa festa anche qui Giulianova fiducia a stallone il patron Bartolini a mente fredda dopo la sconfitta incontrerò il tecnico per capire cosa è successo oggi si teme la stangata del giudice sportivo sul del grosso in vista della dedicata sfida di mercoledì Alfadini contro la Iesina nel taglio basso Rachini e Cudini uniti dalla Salernitana il difensore Nazari stupisce il Francavilla degni e umile sono arrivato in punta di piedi ringrazio per la fiducia il mister lo abbraccia continuiamo con l'eccellenza Rodia match winner Chieti torna in vetta l'ultimo respiro il gol che vale la conquista del primo posto entusiastimi le tifosi dell'Angelini per la vittoria sul San Buceto buon primo tempo dei Neroverdi ospiti poi pericolosi primato premiato da Poglio il bomber Lalli andiamo a vedere il titolo sul Chieti del centro eccolo qui la tredicesima giornata di eccellenza Rodia golla al novantatreesimo il Chieti è primo i Neroverdi superano il San Buceto all'ultimo respiro e aggacciano in vetta Spoltore e Capistrello andiamo avanti il girone B di promozione Manita Lanciano ma lo spettacolo stavolta non c'è sul neutro di Vasto battuto anche il Fossacesi è complici gli errori dei difensori biancorossi per il girone A dodicesima giornata Angizia colpo da maestro ora è seconda da sola la serie A2 est di basket con l'ottava giornata Roseto insegue in vano Montegranaro ospiti avanti fin dalle prime battute gli Schatz provano più volte ad acciuffarli ma l'ex amoroso chiude i conti nel taglio basso d'Arcangeli qualcosa non ha funzionato il coach preferisce glissare sull'arbitraggio molto contestato dal pubblico tutti abbiamo visto dice andiamo avanti e completiamo così le pagine di sport del centro Europa Ovini Giallo Reto Show al Clampli Milosevic non basta al Palaticale i Teatini riprendono fiato e fanno debuttare i giovanissimi Cocco e Sigismondi Tarquini battuti da una delle squadre milioni coach Sorgentone dice possiamo migliorare partita tra Chiede e Campli finita 86 a 65 col paccio del Giuliano a Senigallia con Gobbato e Ricci scatenati invece partita finita 72 a 78 per i giuliesi nel taglio basso l'amatore ci crede fino alla fine batte Corato Pescaresi in vantaggio per 35 minuti ma i pugliesi sfiorano l'aggancio spallata finale con Micevic e Potì partita finita 76 ad 84 ancora l'Adriatica Press travolta da Bisceglie dell'ex Tomasello finita la partita 103 a 79 per la Serie C Silver capolavoro della Nova vasto sempre primo per la Serie D prima sconfitta per Spoltore i pescaresi restano in vetta con l'Aquila che batte Popoli l'Antoniana non sbaglia il volley di A2 girone blu sieco riparte dalla vittoria e Dolfo suona la carica lo schiacciatore dell'Ortona rientrato dall'infortunio nell'anticipo contro Catania dobbiamo ricominciare dal quarto set di sabato giocando bene senza errori per il basket C-Gold Lanciano e Magic doppia battuta d'arresto in trasferta per le due formazioni nel taglio basso la B2 donne cogget a punteggio pieno e per la Serie B donne Roseto vince il derby Colchietti aspetta la capolista Ancona a controguerra oltre 3.000 i partecipanti per la corsa di San Martino in cui dominano i cheniani vincono Chemoi e Chemboy secondi Santoro e Mancini pagina successiva di Santo lancia l'Unione salvezza obiettivo minimo per il rugby di Serie A per la palla a volo selezione femminile terzo appuntamento a tocco da Casauria nel taglio basso pallamano Serie A due donne Teramo batte fondi ed è secondo bimaschile NHC Proger al comando il tennis di Serie A due Citti L'Aquila impatta con il Casale Lanciano sconfitto a Pesaro per il calcio a 5 mercoledì Acqua e Sapone Cairat a due donne Montesilvano Cappo in casa la Champions in Repubblica cieca completiamo anche il messaggero ritorniamo al calcio a 11 Lanciano Cinquina Fossacesia 5 a 1 Frentani sempre leader nel girone di promozione poi abbiamo le interviste Lucarelli Raggiante ora siamo tranquilli per quanto riguarda il Chieti per l'Aquila invece Vittoria nel derby contro il Celano per 3 a 0 andiamo nella pagina successiva Acqua e Sapone torna in Champions per entrare nelle top 4 L'Uni-Gross vola stamattina in Repubblica cieca per giocarsi un posto tra le migliori quattro squadre d'Europa all'esordio mercoledì con i Kazagi Mister Perez dice sarà importante partire bene per quanto riguarda questa competizione Colini occhio ai Ghita la superstar il tecnico nel 2011 vinse il titolo con il Montesilvano attenzione al migliore portiere al mondo e noi adesso ci fermiamo è tutto per la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina mattino 6 torna domani alle ore 8 la nostra informazione con il TG6 oggi alle 14 alle 19 e alle 23 vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay per analizzare ed approfondire la sconfitta del Barbera del Pescara contro il Palermo grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi e buon proseguimento grazie a tutti